Dalla direzione di Telelibera Cassana voglio rinnovare gli auguri a tutti i nostri telespettatori. Eh, che devo fare? Un ballettino! E' un po' suonoro di un ballettino! Ci vediamo, eh! Ciao! Ti raccomando, eh! Stasera porti il resto, eh! Va bene, ciao! Ciao! Poi ho telefonato anche al Ministero della Pubblica Istruzione, comunque ho parlato come a un funzionario della Germini, perché io poi ho chiuso, al posto della Germini avrei voluto Giovanni Centine, perché... ... ... ...